Esplode l'emergenza a sicurezza a Milano. Dopo i tragici fatti avvenuti all'interno del Palazzo di Giustizia, dove un uomo armato di pistola ha ucciso quattro persone, tra giudici, imputati e difensori, oggi ci si chiede cosa debba fare la giustizia quando ad avere la meglio la follia. Rimangono i segni di quella vicenda, una vicenda gravissima che ha colpito quelle persone, quelle famiglie, la giustizia milanese e la giustizia italiana. Dopodiché il tema della sicurezza preesisteva, esiste, il Ministro e il Ministero se ne stanno occupando insieme ai procuratori generali, noi stessi al Consiglio Superiore stiamo riflettendo su questa importante materia e formuleremo delle proposte. Io sono convinto che alla fine otterremo un sistema più sicuro per tutti. Rinforzare i controlli, aumentare le strumentazioni per rilevare la presenza di armi, ma fino a quel tragico fatto nessun tribunale era mai stato considerato un luogo pericoloso. Ad essere cambiato dunque è qualcos'altro. Ci si deve adeguare a un clima che è fatto di tensioni, di tensioni sociali. Gli anni della crisi che mi auguro abbiamo alle spalle hanno prodotto tensioni, risentimenti, sofferenze personali che a volte diventano poco controllabili. Il sistema di sicurezza nel suo complesso deve rispondere a queste domande. Il tema è organizzare in modo più efficiente un sistema di controllo di sicurezza considerando che i palazzi di giustizia sono luogo di accesso, destinazione di moltissime persone, professionisti, magistrati, personale, cittadini che accedono. Bisogna trovare un equilibrio tra la necessità di un accesso agevole e la necessità di pari rango di garantire sicurezza per tutti.